Era il 16 luglio 1969, il giorno in cui dalla base di Cape Canaveral partì Apollo 11, il volo che portò l'uomo sulla luna. Il signore che scandì il conto alla rovescia e gridò il gol del lancio, si chiamava Rocco Petrone. Era di origini italiane, di Sasso di Castalda, provincia di Potenza, in Basilicata. E dopo essere stato direttore di lancio, diventò anche direttore dei successivi voli Apollo alla conquista del nostro satellite. Da Sasso di Castalda a Cape Kennedy, come si chiama oggi. Così anche nel più importante viaggio migratorio della storia dell'uomo c'è un pezzetto di Lucania. La casa dove papà Petrone visse fino al 1921, l'anno in cui decise di emigrare in America, è rimasta come allora, col camino, col forno per il pane e con tutte quelle cose che la tradizione lucana e contadina tiene ancora in grande rispetto. Questa è gente pacifica, senza grandi turbamenti. Di Rocco Petrone, di questo nipote che ora va sui giornali, giusto per usare una loro espressione, è rimasto in questi vecchi contadini il ricordo di un lontano incontro. Era appena finita la guerra e un giovane tenente dell'aviazione americana di passaggio da queste parti sentì il desiderio di venire a conoscere i parenti lucani, i fratelli, le sorelle dei suoi genitori, i suoi cugini. Era Rocco Petrone che dopo quell'incontro, puntuale, ha mandato tutti gli anni gli auguri di Natale. È incredibile il cambiamento che può portare nel destino di un uomo l'educazione e un ambiente favorevole, da contadino povero del sud a direttore del progetto per la conquista della luna in una sola generazione. Buongiorno, ancora un appuntamento con Kate Kennedy. Dovremmo esserci abituati ormai, ma questa volta l'atmosfera è diversa, diversa l'emozione, diversa, soprattutto è assolutamente nuova, direi quasi impensabile fino a non molto tempo fa, l'impresa che sta per incominciare. Oggi possiamo dire, vi invitiamo a partecipare con noi attraverso la televisione all'inizio di una grande avventura, all'inizio dell'esplorazione umana della luna. Tre uomini, tre astronauti americani, stanno per partire per questo viaggio e possiamo dire che li accompagnerà il mondo intero. 10, 9, la sequenza di seguito è iniziato, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, tutti i motori iniziati. Siamo un riptoffi, 32 minuti pasto l'ora, riptoffi un Apollo 11. Tower è seguito. Siamo un programma di programma. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gli altri due, è vero, Buzz Aldrin e il comandante della spedizione Neil Armstrong, scenderanno e saranno i primi uomini che toccano un corpo celeste nella storia dell'umanità. Vanno lì a nome dell'umanità, vanno lì a nome degli Stati Uniti d'America, portano una placca, è vero, esprimente l'orgoglio e l'umiltà degli uomini, portano una bandiera con le stelle e le frisse degli Stati Uniti. Questo che vedete ora è Rocco Petrone, che è il direttore dell'operazione di lancio a Capo Kennedy, che sta tenendo una conferenza stampa ai giornalisti. Rocco Petrone è di origine italiana, del resto il mondo lo dice di per sé. La casa dove papà Petrone visse fino al 1921, l'anno in cui decise di emigrare in America, è rimasta come allora, col camino, col forno per il pane e con tutte quelle cose che la tradizione lucana e contadina tiene ancora in grande rispetto. Questa è gente pacifica, senza grandi turbamenti. Di Rocco Petrone, di questo nipote che ora va sui giornali, giusto per usare una loro espressione, è rimasto in questi vecchi contadini il ricordo di un lontano incontro. Era appena finita la guerra e un giovane tenente dell'aviazione americana di passaggio da queste parti sentì il desiderio di venire a conoscere i parenti lucani, i fratelli, le sorelle dei suoi genitori, i suoi cugini. Era Rocco Petrone, che dopo quell'incontro, puntuale, ha mandato tutti gli anni gli auguri di Natale. È incredibile il cambiamento che può portare nel destino di un uomo l'educazione e un ambiente favorevole, da contadino povero del sud a direttore del progetto per la conquista della luna, in una sola generazione. L'ingegnere Rocco Petrone è il capo del programma Apollo alla NASA. Ingegnere Petrone, secondo lei quali saranno i benefici che ognuno di noi trarrà dalle attività spaziali? Quando Colombo partì alla scoperta del nuovo mondo, qualcuno gli avrà sicuramente detto, ma perché vuoi andare così lontano? Quando i fratelli Wright costruirono l'aeroplano, delle persone rispettabili dissero che l'aereo era soltanto un giocattolo per persone ricche. Invece oggi, grazie all'aereo, il mondo è molto più vicino. Oggi uno può trovarsi negli Stati Uniti e nel giro di otto ore essere a Roma. Penso che ciò abbia contribuito a rendere il mondo più utile, migliore. Pensiamo al telefono che dà la possibilità a due persone di parlarsi a distanza. Non avevamo il telefono, perché si doveva inventarlo? Oggi, senza telefono, il mondo non esisterebbe. Per queste ragioni, io considero lo spazio come un grande laboratorio. Alcuni benefici ottenuti dallo spazio sono già visibili oggi. Prendiamo ad esempio il campo della meteorologia, le previsioni del tempo. I satelliti meteorologici sono la prova lampante di questi benefici. L'uomo è così in grado di capire e conoscere meglio il suo mondo, capire che cosa sono le nubi, il calore. Ciò che mi ha maggiormente colpito sono le comunicazioni. Pensate ai benefici derivanti dai satelliti per le comunicazioni. E non siamo che all'inizio. Io credo che lo spazio offra al mondo una speranza di pace. Credo che se la gente considerasse il mondo senza le frontiere create dall'uomo, se lo considerasse semplicemente un mondo creato da Dio, penso che impareremo a vivere meglio e più uniti. Pensando ancora più in là, alla luna e ancora più lontano, vedo la luna come un posto dove l'uomo può costruire delle basi per conoscere meglio l'intero universo. Ci si domanda perché. Perché è stata la prima domanda dell'uomo guardando il cielo e vedendo le stelle. Guardando questa immensità avrà detto perché, come. Superando milioni di anni siamo arrivati a ciò che siamo oggi. Personalmente non credo che l'evoluzione dell'uomo sia finita. Penso che secondo l'evoluzione naturale che ci è stata donata dal Creatore, l'uomo continuerà a chiedersi perché, come e di conseguenza si evolverà sempre più. Oggi penso ai sogni del futuro come a dei sogni, ma i sogni di oggi potranno essere la realtà di domani. Grazie a tutti. Alla fine tutto funzionò alla grande. Basta con la politica, niente più frustrazione. Finalmente facevamo il nostro lavoro e ne eravamo entusiasti. Però sapevamo anche che bastava un niente perché tutto questo svanisse. Eccovi la risposta di Neil Armstrong al messaggio di auguri. Grazie mille, siamo sicuri che sarà un viaggio piacevole, che Dio ci protegga. Grazie mille.